PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla puntata numero 30 di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati e dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, autore e curatore della rubrica PCT Digitale, pillole digitale per aumentare e crescere la tua voglia di essere avvocato tecnologico. La puntata di oggi è dedicata a lista messaging e confronto delle due piattaforme principali Telegram e Whatsapp e in questa puntata ti spiegherò anche perché Telegram è la piattaforma che dovrai utilizzare per la tua comunicazione. Ma prima di iniziare ti ricordo come puoi riascoltare le precedenti puntate, ti puoi collegare su iTunes, su SoundCloud o Springer oppure connetterti al sito avvocatotecnologico.it o tramite il canale Telegram PCT Facile. Puoi contribuire alla crescita del podcast facendo una piccola donazione tramite la pagina paypal.me slash fposati o diventare anche un finanziatore in crowdfunding tramite la pagina patreon.com slash fposati. Puoi condividere il podcast tra i tuoi contatti sociali oppure lasciare una recensione a 5 stelle su iTunes per far conoscere il podcast e consentire di rimanere di gratuito a tutti quanti. Come ha fatto l'utente Crazy Guy che ha scritto ottimo canale gestito in modo professionale e con aggiornamenti quotidiani molto utili. Continuate così. Grazie Crazy Guy che ci stimoli a continuare in questo progetto. Spero che tu stia passando delle serene vacanze. Hai notato che anche il tono di questa puntata è meno formale e più live perché in questi giorni abbiamo allentato tutto un po' il nodo della gravatta e comunque ci sentiamo in libertà. Iniziamo. Nella scorsa puntata ho parlato di come l'instant messaging abbia rivoluzionato in un mondo della comunicazione ma anche dei costumi e della società. Le spunte blu e gli ultimi accessi all'applicazione sono diventate una vera e propria ossessione di molte persone. Fonte di ansia, di preoccupazione, di sospetti. Così come anche le monji, l'evoluzione degli emoticons perché hanno dato colore al testo. Niente più limiti poi dei 160 caratteri come erano i vecchi sms. La gratuità della messaggistica istantanea introdotta da whatsapp ha reso la comunicazione molto più fluida, più continua e talvolta inarrestabile. Avresti mai mandato un sms con solo scritto ciao sapendo che quell sms ti sarebbe costato 10 centesimi? Ormai le mail, come ho detto anche nella precedente puntata, sono superate e non rispondono neanche più all'esigenza di immediatezza e velocità che la società ci richiede. Infatti se tu vedi come sono strutturate le mail e sono troppo formali, devi aprire una nuova conversazione, come specificare l'indirizzo, scrivere l'oggetto, pensare a come spiegare il contenuto della lettera che stai scrivendo, nel caso anche rileggerlo per trovare qualche errore e qualche refuso, allegare gli eventuali documenti o link per file pesanti, salutare, firmare e inviare. E anche se lo fai dallo smartphone devi seguire un processo molto simile. Quanto ci metti a scrivere una mail dipende, ma di solito 5 minuti ti partono via. Con l'instant messaging tutti questi passaggi si evitano se usati con criterio. Oggi parleremo dei maggiori servizi che si stanno contendendo il mercato dell'instant messaging. Whatsapp è il servizio di messaggistica istantanea più diffusa nel mondo. Nel 2014 Facebook acquista Whatsapp per 19 biliardi di dollari. Prima era disponibile solo su iPhone a pagamento, ora anche su Android. Dopo l'acquisto è ora anche gratuito e questo ha aumentato il numero degli utenti fino a toccare un miliardo nel mondo. Nell'ultimo periodo però stanno anche nascendo molte applicazioni simili. Il principale competitor di Whatsapp è Telegram, sviluppato da Pavel Durov e ha recentemente raggiunto 100 milioni di utenti, soprattutto dopo i blocchi dei server registrati da Whatsapp. 100 milioni contro un miliardo, un decimo, cioè cifre inconsistenti. Poi ce ne rendiamo anche conto, se tu ti scarichi per la prima volta Whatsapp sul tuo telefonino ti accorgerai che accedendo alla tua rubrica tutti i tuoi contatti hanno Whatsapp. Con Telegram questo non succede, anzi è un po' una cosa naif avere Telegram. Ma prima di calarci nel confronto dei due servizi di instant messaging cedo la parola a Marco Pennacchini per raccontarci la pillola digitale del giorno. A te Marco. Whatsapp ha una funzione poco nota che permette di sapere quanti messaggi scriviamo ai chi sono le persone con cui chattiamo di più. Per ora è accessibile solo dall'iPhone, ma presto sarà attiva anche per le altre piattaforme. Funziona così. Una volta aperto Whatsapp bisogna cliccare sulla rotella in basso a destra e accedere alle impostazioni. Poi dalla voce account a seguire si clicca su utilizzo archivio e su messaggi per scoprire quanti messaggi abbiamo scambiato su Whatsapp da quando è installato sul nostro telefono e contatto per contatto chi sono le persone con cui abbiamo chattato di più. Riprendiamo il tema trattato, l'instant messaging. In questa seconda parte entriamo nel confronto delle due piattaforme principali di messaggistica istantanea. Qual è la differenza tra i due servizi, Whatsapp e Telegram? E soprattutto perché Telegram è superiore a Whatsapp? Lo scopriamo insieme. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Registrazione. Telegram, a differenza di Whatsapp, al momento della registrazione permette di aggiungere una username al proprio contatto. In questo modo anche chi non ha il tuo numero di telefono potrà raggiungerti facilmente e chattare con te. Al tuo cliente non necessariamente dovrai comunicare il tuo cellulare ma potrai comunicare la tua username. Il cliente ti potrà mandare una richiesta e in base alle tue esigenze tu potrai rispondere. Il tuo contatto telefonico potrà rimanere riservato soltanto a chi vuoi tu. Invece con Whatsapp questo non è consentito perché con Whatsapp sei obbligato per forza a dare il tuo numero di cellulare a tutti. Sincronizzazione. Sia Whatsapp che Telegram si possono utilizzare anche su PC, grazie alla web app dedicate. Tuttavia Telegram, essendo su una piattaforma cloud, permette di usare il proprio contatto contemporaneamente su un altro dispositivo, come ad esempio un tablet. Infatti non è necessario inserire un nuovo numero di telefono e registrarsi nuovamente. In quanto grazie al cloud tutti gli apparati che hanno Telegram installato sono sincronizzati tra loro. Telegram infatti è legata al numero di telefono ma non dipende come Whatsapp da questo. Altro punto di forza questa sincronizzazione questa piattaforma cloud consente direttamente all'utente Telegram di non essere legato al proprio dispositivo. A differenza di Whatsapp che pur avendo un'interfaccia web requisito essenziale richiesto il tuo dispositivo dove è registrato il numero di telefono deve essere acceso e connesso con internet. Invio dati. Sia Whatsapp che Telegram permettono di inviare molti tipi di file. Prima con Whatsapp era possibile soltanto inviare file multimediale che erano audio, video e immagini. Adesso da poco è stata estesa la possibilità di condividere anche i documenti. Perché conviene Telegram? Perché mentre la dimensione massima di un file inviato su Whatsapp è di circa 16 MB e per questo motivo che le foto vengono ridimensionate, in Telegram il limite è di 1,5 GB. L'invio dei dati quindi anche di grandi dimensioni consente sempre più di integrare Telegram in una propria comunicazione interna dello studio. Memoria. Telegram è un'applicazione più leggera nel senso che occupa meno memoria rispetto a Whatsapp quindi potrai sostenere anche tantissime conversazioni contemporaneamente senza che il tuo smartphone cada e si blocchi. Privacy e sicurezza. Il tema anche più importante e più delicato. Telegram è più sicuro di Whatsapp per diversi motivi. Intanto dispone delle chat segrete in cui viene utilizzato un protocollo di cifratura unico in ogni conversazione con un altro utente. End to end. Inoltre su Telegram esiste la funzione di autodistruzione dei messaggi. Se ad esempio non vuoi che il tuo contatto conservi la conversazione puoi scegliere un periodo di tempo massimo in cui il tuo interlocutore potrà vederlo prima che si autodistrugga. Riguardo a questo aspetto bisogna anche considerare però che nei giorni scorsi recentemente Whatsapp ha introdotto una criptografia end to end su tutte le chat. Sul Telegram è soltanto nelle chat segrete. I contenuti vengono criptografati sui server però è anche opportuno evidenziare che Whatsapp raccoglie quelli che vengono definiti metadati ossia dati generici ma che possono comunque essere funzionali in un'indagine delle forze dell'ordine ad esempio. Se qualcuno nella tua lista contatti viene coinvolto in un'indagine Whatsapp sa se lo hai contattato e quando. Non si può nascondere questo metadato. Riguardo ai contenuti dei messaggi c'è un'altra falla molto importante. Le chat possono essere salvate su cloud tramite Google Drive o iCloud. Ciò significa che se uno di questi servizi viene hackerato c'è la possibilità che tutte le due conversazioni vengono esposte a prescindere dalla criptografia. Telegram offre maggiori garanzie sia per la criptografia 256 bit client server impedendo intercettazioni esterne sia per la criptografia end to end nelle chat segrete il cui contenuto si auto eliminerà in base ai timer imposto sia per l'autenticazione a due fattori assenti in Whatsapp che limita gli accessi abusivi al tuo account. Telegram è una piattaforma open source lato cliente. Si basa molto sulla community di volontari consentendo di migliorare e sviluppare costantemente la piattaforma. Sempre in tema di sicurezza i programmatori di Telegram infatti sono così convinti della sicurezza del proprio sistema da offrire un premio di 200.000 dollari a chiunque sia in grado di bucare il protocollo e leggere i messaggi in modo non autorizzato. In tema invece di privacy ti ricordo avvocato tecnologico che tu sei responsabile della gestione e della conservazione dei dati dei tuoi clienti. L'utilizzo di un servizio come Whatsapp compromette infatti la privacy in quanto i dati che transito su Whatsapp vanno a finire sui server di Facebook in territorio extraeuropeo ponendoti in un'aperta violazione delle norme privacy con delle sanzioni molto pesanti. Telegram pur essendo una piattaforma cloud che potrebbe ricadere in questo rischio tuttavia ha i server in territorio europeo. I server infatti risiedono in Germania quindi rispettosi della normatia. Concludiamo quindi semplicità di utilizzo, sicurezza, privacy, cloud, condivisione, tutti elementi che giustificano l'inserimento di Telegram nella tua comunicazione. Anche di studio integrando un sistema di chat interna che consenta a te, ai tuoi collaboratori di condividere il lavoro di squadra ma nello stesso tempo ai tuoi clienti, i millennials, di poter ricevere il record delle tue attività non perdendo tempo in costose e prolisse telefonate o lunghe e dispendiose mail. Sei ancora convinto che Whatsapp sia superiore a Telegram? Io termino qui questa puntata. Mi puoi contattare su Telegram al username o via mail anche per condividere la tua opinione o richiedere una consulenza dedicata su come integrare in modo efficace l'instant messaging nel tuo studio. Ti lascio il piacere di scoprire da solo il tema della prossima puntata. Ascolta il podcast. Al microfono Francesco Posati insieme a Marco Pennacchini, ti saluto e ti ricordo che viviamo insieme il futuro digitale. Ciao!